Urca ben urca a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite E' in realtà da un pochino che non vi porto dei video guida del genere Ma oggi sono finalmente qui per mostrarvi la location della stella segreta della settimana numero 6 Come potete vedere qui nella scremata di caricamento dell'appunto isola del cubo Che in questo momento si trova tra l'altro, si è spostata, si trova esattamente qui Possiamo notare che zoomando un pochino in questa zona del lago Qui si troverà o meglio si intravede la stella segreta di questa settimana numero 6 Ragazzoni quindi esattamente qui sarà la location di questa stella segreta della settimana numero 6 Ovviamente io sto pre-registrando questo video perché non ho ancora finito tutte le sfide della settimana numero 6 appunto Che sarebbe quella di Boogie Down E ragazzoni appena voi avrete finito tutte le sfide e appena l'IP Games la rilascerà Perché non è detto che dovrete per forza finire e basta le sfide Dovrete anche aspettare che l'IP Games la rilasci in teoria 2-3 giorni lavorativi La rilasciano E ragazzoni qui si troverà la stella segreta di questa settimana numero 6 Io spero che questo video vi sia piaciuto Se così è stato lasciato un bel pollice lì su Condividete questo video con tutti i vostri amici E supportatemi nel negozio oggetti con il codice creatore Lucius Perché a brevissimo un nuovissimo contest dove regalerò skin rare come Iconic scusate Wonder, Honor e tantissime altre skin Bene ragazzoni ci vediamo nel prossimo video Baralive